Diamo un'occhiata allo strumento testo. Come possiamo vedere si richiama, vediamo se esce l'aiutino, si richiama con il pulsante T da tastiera di testo, quindi è anche facile da ricordare. Lo strumento testo, una volta che clicchiamo un punto qualunque dell'immagine, creerà automaticamente un livello di testo, che in questo caso contiene un lorem ipsum. Il colore è quello di default, in qualunque momento io posso selezionare il testo e cambiargli il colore. Con questo color picker posso mettere tutti i colori o anche mettergli un codice colore o mettergli un valore in quadricromia o in RGB. Insomma ho tutte le possibilità. Quando ho lo strumento selezionato posso gestire i font, quindi posso, aprendo questa tendina, sempre se si apre, posso andare a sostituire il font, posso andare a sostituire lo stile del font e posso andare a modificare il corpo e anche la giustificazione. Un'opzione interessante che ho in più è questa, che mi consente di applicare delle trasformazioni al mio testo, quindi abbiamo tutte le possibilità di mettere il testo a forma di bandiera piuttosto che trasformarlo in questo modo. Insomma abbiamo un po' di opzioni con cui si può giocare, che possono essere interessanti. Ora una cosa interessante da notare è che all'interno dello strumento ci sono più opzioni. Io ho anche lo strumento testo verticale, per esempio, che come possiamo vedere non fa altro che scrivere in verticale. Per il resto si comporta esattamente nella stessa maniera. Interessante abbiamo anche lo strumento maschera di testo orizzontale. Questo strumento andrà semplicemente a creare una selezione di testo. Quindi nel momento in cui io esco mi è rimasta una selezione, da cui io posso volendo applicare una maschera, che poi posso invertire a piacimento, e quindi il mio testo è stato usato semplicemente come maschera. Personalmente non mi fa impazzire questa opzione, perché io preferisco di gran lunga avere un livello di testo normale, lo trasformo come mi pare, dopodiché se voglio la selezione per fare una maschera, tengo premuto Command e clicco sul livello e ho ottenuto esattamente la stessa cosa. Oppure meglio ancora si può usare come clipping mask, per cui per esempio io potrei clippare questo livello al livello sottostante e in questo modo vedete che non solo ho ottenuto la stessa cosa, ma se io scrivo qui dentro le modifiche vengono prese automaticamente, cosa che col metodo precedente non era possibile. Adesso vado a togliere la clipping mask. Uno strumento molto utile, come possiamo vedere, se io seleziono tutto il mio quadro con questo livello selezionato, le opzioni di allineamento funzionano sul testo, cioè esattamente sulla quantità di testo su cui io sto lavorando. Se invece di cliccare però io vado a creare una cornice all'interno della quale compare un testo segna posto, ora nel momento in cui io vado ad allineare, quello che viene allineato non è più la quantità di testo ma è la cornice. Questo è molto utile nel caso in cui si voglia, per esempio, avere una cornice con dentro poco testo. In questo caso io posso, per esempio, allineare il mio testo, per esempio io l'ho allineato in basso, l'ho allineato in basso e quindi vediamo che quello che viene allineato in basso è la mia cornice, non più la mia quantità di testo. Questo è molto utile se si vogliono tenere delle quantità di testo sempre allineate nello stesso punto. In questo modo la mia prima riga sarà sempre alla stessa distanza dal fondo perché quello che viene allineato è appunto sono i margini della cornice. Molto utile anche per impaginare e per fare i layout. È importante distinguere queste due tipologie di testo perché poi si comportano in maniera diversa.